Emergenza idrica a Scoglitti dopo l'ordinanza del sindaco di Vittoria del 28 luglio che vieta l'uso dell'acqua a fini potabili in una vasta zona della frazione balneare. L'Unione Consumatori adesso ha inviato una nota alla prefettura, al comune e all'azienda sanitaria provinciale per chiedere la convocazione urgente di un tavolo tecnico che affronti e risolva la questione in tempi celeri, visto anche il periodo estivo e l'incremento di presenze a Scoglitti. L'Unione Consumatori inoltre si riserva di assumere tutte le iniziative necessarie per tutelare la salute e la dignità dei cittadini colpiti dai gravi disagi. E' sempre a proposito di disservizi idrici da registrare le segnalazioni che arrivano alla nostra redazione dalla zona rocciola di Modica, dove si registrano turni di erogazione ridotti al minimo. I residenti in questa vasta area della zona sorda, infatti, sono costretti a rifornirsi dai privati con notevole aggravio di costi per i bilanci familiari. Un disservizio questo, segnalato dalla zona rocciola, che sembra ripetersi nel periodo estivo. Probabilmente sarebbe necessario rimodulare i turni di erogazione dell'acqua proveniente dalla rete pubblica per eliminare o almeno ridurre i disagi dei residenti.